questo consiglio in alto ambiente lo abbiamo voluto con forza perché con consapevolezza bisogna poi prendere coscienza politica di determinare situazioni al di interno di questa società in alto che non funzionano come dovremmo per cui stiamo da tempo chiedendo una documentata un documentato che si trova nel corso del 2014 e del 2015 e del 2015 e per quanti sforzi siano stati fatti da sociologi la limpiamo anzi impiegiamo di certe solute certe necessarie documentazioni che sono mai pervenute alla società per cui già scoprire c'è anche un altro debito nei confronti della provincia di Averdino per me e mezzo transata rispettata quindi sappiamo che la provincia di Averdino dopo una transazione soprattutto che non è rispettata quindi questo è quel poco che alla fine bisogna sapere di queste società e poiché in ballo c'è la sorte degli amministratori in ballo c'è il ciclo integrato dei rifiuti in ballo c'è i consorsi voglio dire ci sono famiglie che degli amministratori come stanno non mi interessa molto di più questo ha pure non soltanto tutti i valori che lavorano per le famiglie tra l'altro sentenza del bar che è riconosciuto che i lavoratori del basso devono essere devono essere riassupiti devono essere assunti quindi nel rispetto di tutto ciò che la legge ci impone nel rispetto del socialismo